Delitto perfetto, un cortometraggio in concorso qui al primo festival del cortometraggio del cinema di... Fuori concorso. Abbiamo appunto il regista Diodato e l'argomento trattato nel cortometraggio è un argomento molto forte, è di denuncia sociale, attualissimo, ovvero delle morti per strada causate da incidenti e da investimenti da parte di soggetti che guidano in stato, in questo caso nel tuo film, in stato sotto effetti stupefacenti. Ebrezzo, sì, esatto. Parla delle vittime della strada che tra l'altro il ministro Maroni all'epoca, adesso il ministro Passere, ha di nuovo riparlato di questo argomento che purtroppo è diventato una piega sociale perché quasi ogni settimana, anzi tutte le settimane si vedono, tra l'altro ricevo interviste da molte città d'Italia in cui mi dicono, ah come è fatto a sapere di un caso nostro? Invece no, è una cosa che purtroppo accade sempre, spesso. E si ripete, nel cortometraggio recita Daniela Poggi, quale madre della vittima del ragazzo Nicolò Stavacuridis e come ti sei sentita ad affrontare, a interpretare un personaggio così forte e anche drammatico nel finale come la madre del ragazzo che sta per morire? Ma sai, non è molto complicato immedesimarsi nel ruolo di una madre che perde il figlio perché viene ucciso, travolto da un'altra macchina guidata da un altro giovane. Il fatto stesso di non sentirlo più al telefono perché la scena è che io sto parlando con lui al telefono, la scena è tutta muta, quindi però si capisce che io gli sto dicendo, mi raccomando, studia, sta andando all'università. Quindi c'è questo rapporto continuo, questo legame molto forte, telefonico, che si interrompe nel sentire un botto. E quindi non è complicato immaginare il dolore che si può provare. Credo che tu l'abbia immaginato molto bene perché in un centesimo di secondo tu cambi dagli occhi dell'amore di una madre che sta parlando con il proprio figlio a un'angoscia totale. E dai proprio l'immagine, l'angoscia anche allo spettatore di quello che sta avvenendo, di quello che avverrà probabilmente. Beh, io ti ringrazio perché in effetti le scene più difficili sono quelle in cui non hai un percorso, no, soprattutto non hai un percorso emotivo, no? Hai, cioè, da una frazione di secondo prima a una frazione di secondo dopo esiste l'evento, succede l'evento. Quindi se tu mi dici che sono stata capace e brava, questo mi rende molto bene. Io l'ho avvertito molto. E invece volevo fare... Finisco una cosa su Di Levere, che è molto bello il fatto della morte indiretta. Lei si vive purtroppo la morte indiretta del figlio, che è massacrante. Io ho voluto dedicare un corto soprattutto alle madri e lei è stata bravissima in rendolo perché proprio c'è un passaggio negli occhi di serenità, di dubbio, cosa sta accadendo e poi della morte, del dolore immenso, l'ha reso perfettamente. Un complimento e una domanda invece al regista Deodato. Il complimento è che in pochi minuti hai anche trattato una seconda parte molto importante di questi drammi, che è la parte legale di condanne che sono molto leggere, che a volte non avvengono neanche e non danno pieno risarcimento, quantomeno morale, alle vittime. E poi invece volevo farti una domanda perché ho visto che tu anche reciti, anzi tu sei il killer nel cortometraggio e volevo sapere come ti sei sentito a interpretare questo ruolo. Innanzitutto per quanto riguarda l'aspetto legale, io oltre ad essere un giullare, quindi un attore, regista, sono laureato in legge, quella è la parte seria della mia vita e quindi mi sono informato molto, molto, con avvocati, giuristi, poi con le mie esperienze, i miei studi e mi è piaciuto moltissimo per tutto quello che riguarda la preparazione. E ho visto sì che purtroppo le pene, anche parlando con giudici, loro tendenzialmente non vogliono equiparare l'omicidio stradale a un omicidio vero e proprio, doloso. E quindi tendono ovviamente, dicono, non è come sparare un uomo, uccidere così. Invece purtroppo, purtroppo, perché io sono stato anche con l'associazione vittime strade, invece uccidono e come, spesso, e comunque dovrebbe essere considerato un omicidio volontario, spesso volentieri e soprattutto non uccidono solo la persona, ma uccidono la famiglia vera e propria. Per quanto riguarda il ruolo del killer, certo, soprattutto perché si tratta di una cosa, di una denuncia sociale, è molto forte sentirci. Cioè, tra l'altro Nicola, se voleva farla a lui, ha fatto Nicola? No, a te ti vogliono bene tutti quanti, è meglio che odino me piuttosto che te. Poi, certo, è un ruolo molto forte e a me piace come attore comunque fare ruoli forti, questo è sicuro.